Su direttiva del questore di Agrigento Maurizio Auriemma in tutto il territorio di Canicattì gli agenti del commissariato di via Ciaccio Montalto coordinati dal dirigente del dottore Cesare Castelli con il concorso della sezione polizia stradale di Agrigento e delle pattuglie del reparto prevenzione crimine di Palermo hanno effettuato un capillare controllo del territorio e dei soggetti dediti alle attività criminali soprattutto reati contro il patrimonio e la persona. Le attività di prevenzione e repressione dei reati svolte anche con l'ausilio di personale della sezione anticrimine in abiti civili confusi tra la gente hanno dato risultati positivi. È stato istituito un posto di blocco, 11 posti di controllo, 325 le persone identificate e controllate tra cui molti pregiudicati, 213 veicoli controllati, 22 infrazioni contestate al codice della strada, 4 autovetture sono state trovate senza copertura assicurativa, 40 punti della patente decurtati, 4 documenti ritirati e 4 autovetture sequestrate, 4 controlli ad esercizi pubblici, bar e sale gioco, una sanzione amministrativa di oltre 1000 euro irrogata al titolare di una sala giochi per avere impiegato una persona priva di autorizzazione di polizia e infine controllate 10 persone con precedenti sottoposte a misure alternative alla detenzione. Nel corso delle attività sono state effettuate perquisizioni domiciliari, una con esito positivo poiché nell'abitazione di un giovane ventenne romeno abilmente occultata è stata trovata e sequestrata sostanza stupefacente del tipo marijuana già suddivisa in involucri per un peso complessivo di quasi 100 grammi. Il giovane è stato segnalato all'autorità giudiziaria per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.